Sei un pensionato o un lavoratore dipendente? Con FIGEMPA puoi avere finanziamenti a tasso agevolato pur avendone altri in corso o ritardi nei pagamenti. Portaci la tua busta paga o il cedolino della pensione ed insieme troveremo la soluzione giusta per te. Se cerchi un mutuo conveniente per l'acquisto della tua casa, surroga o liquidità, con noi trovi la rata sommisura per le tue esigenze. Vieni a trovarci in filiale. FIGEMPA. Diamo credito al tuo mondo. Vieni a trovarci in filiale.